Cinque ore e mezzo e due interruzioni, questo in materia temporale l'esito della prima udienza del processo Plinius, un valore quello del tempo che è alla base del giudizio immediato richiesto dalla pubblica accusa per 29 dei 41 imputati e che punta a velocizzare il processo. L'udienza iniziata questa mattina intorno alle 10 si è chiusa poco più tardi delle 15.30 ed è stata aggiornata al 28 gennaio 2014 quando si discuterà di quali elementi di prova ammettere al procedimento. In un processo che prevede oltre 400 testimoni e 16 collaboratori di giustizia, il dato che ha suscitato maggior clamore è quello del costo per acquisire tutto il materiale allegato alla richiesta della pubblica accusa, 65.000 euro per oltre 30.000 pagine di brogliacci e 4 anni di file di intercettazioni. L'accusa ha proposto un elenco di quelli ritenuti fondamentali al processo e contestualmente depositerà copia conforme all'originale di tutto il materiale, toccherà alle difese visionarlo e chiedere poi l'ammissione di parti specifiche nel corso del procedimento. Diverse le eccezioni proposte in merito al tipo di giudizio per quasi tutti gli imputati, accolte e stralciate soltanto le posizioni di Corrado Lamberti, accusato di estorsione per legittimo impedimento e di Mario Stummo per un difetto di notifica, saranno valutate nella prossima seduta. Per quanto riguarda le costituzioni di parte civile sono state ritenute valide le richieste della Regione Calabria e del Comune di Scalea e quella di Francesco Maria Fazio. Per le prime due era stata eccepita la pertinenza in relazione agli imputati che non sono accusati del reato di associazione mafiosa, una condizione ritenuta invece non necessaria dal collegio giudicante perché anche i reati diversi da quello previsto dall'ex 416 bis si ritengono eventualmente commessi nell'arco complessivo di un unico disegno criminoso. Lo stesso dicasi per la richiesta di costituzione parte civile di Fazio, oggetto di un atto intimidatorio e della Geoambiente SRL. Infine, per il momento è stata accantonata l'ipotesi di procedere con la partecipazione a distanza dal processo da parte degli imputati. Non verrà utilizzata la videoconferenza per consentire, in un procedimento molto complesso dal punto di vista tecnico, la possibilità agli avvocati difensori di poter interloquire con i propri assistiti. Domani a Catanzaro verrà discussa la richiesta per l'ammissione al rito abbreviato per altri 7 imputati, più un altro all'abbreviato condizionato.